Chi ci sarà nel cast di Ballando con le stelle? Milly Carlucci ha presentato la nuova promo del programma, nell'articolo i dettagli Ballando con le stelle tornerà il prossimo 8 ottobre in televisione e la nuova promo del programma ha svelato i concorrenti ufficiali di Milly Carlucci Chi ci sarà nel cast? Leggi anche, Mara Venier, il mio ex ha tentato di uccidermi, chi è l'uomo che ha usato violenza sulla conduttrice? Ecco la verità Milly Carlucci presenta il cast di Ballando con le stelle nel video promo della prossima stagione di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha presentato il suo cast, ecco le sue parole e il nome dei concorrenti, insomma, nessun nome che non fosse già stato sentito e precedentemente svelato Come sappiamo, poi, il comico Dario Cassini è arrivato in sostituzione del cantante Nino D'Angelo che all'ultimo ha preferito rifiutare la proposta degli autori di Ballando con le stelle I concorrenti Come sappiamo, il nuotatore Alex Di Giorgio è apertamente gay e ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle solamente se gli autori avessero accettato una sua richiesta Ecco cosa ha detto Milly Carlucci, la partecipazione di Enrico Montesano Molti spettatori di Ballando con le stelle hanno fiutato aree di polemica quando è stata annunciata la partecipazione di Enrico Montesano, come sappiamo l'attore è stato aspramente criticato per le sue posizioni sulla gestione della pandemia e sui vaccini per il Covid-19 Lo scorso anno, per i medesimi motivi, abbiamo assistito al duro scontro fra Selvaggia Lucarelli e Mietta e per questo motivo si temeva il peggio anche per l'edizione di quest'anno A questo proposito, però, Milly Carlucci ha detto, seguici su Instagram cliccando qui Ci vediamo nei prossimi video, ciao!